Sta vedendo la luce, tocca anche Ivrea, riconosciuta dall'UNESCO nel patrimonio mondiale dell'umanità, il Grand Tour del Piemonte in bicicletta, un anello di 600 chilometri da scoprire in lentezza fra capolavori di arte e natura. Tra il 24 e il 27 settembre si è svolto il test di lancio, durante il quale alcuni rappresentanti istituzionali e giornalisti, insieme al segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Enrico Vicenti, hanno provato sul campo un primo tratto dell'anello. Durante il test di lancio è stato possibile visitare alcuni luoghi simbolo del sito di Ivrea, ad esempio il nuovo centro visitatori nelle officine ex ICO, ma anche la quattrocentesca chiesa di San Bernardino e l'annesso convento francescano, acquisiti nel lontano 1910 da Camillo Olivetti. Al figlio Adriano si deve il recupero degli stupendi affreschi che Giovanni Martino Spanzotti dedicò alla vita e alla passione di Cristo, riportati all'antico splendore cromatico negli anni 50 del XX secolo. Il sito di Ivrea, città industriale del XX secolo, si estende per oltre 71 ettari. È un insieme urbanistico, di proprietà quasi esclusivamente privata, caratterizzato da 27 beni fra edifici e complessi architettonici, progettati dai più famosi architetti e urbanisti italiani del Novecento, costruiti fra il 1930 e il 1960 e destinati alla produzione, a servizi sociali e a scopi residenziali per i dipendenti dell'Olivetti.